Ciao TV Magazine, siamo qua alla nuova idea e siamo qua con... Lori. Lori, Lori sei di Milano? Sono di Milano. È la prima volta che vieni a vedere l'ospedale? No, no, non è la prima volta, avevo già anche partecipato due anni fa, sempre a Miss Butterfly, e niente... Nel 2017? Nel 2017, sì. Ecco, allora forse abbiamo partecipato insieme, non me lo ricordavo? Allora no, allora forse l'anno ancora prima, sicuramente l'avevo 2006 e qui. Comunque hai partecipato. Sì. Perfetto, e visto che è la decima edizione, cosa ti aspetti da questa serata? Sicuramente mi aspetto delle novità, vediamo un po' come sarà lo show e che vinca la migliore. Perfetto, grazie mille noi. Di nulla. Ti auguro una buonissima serata. Grazie a voi. Grazie mille, rimanete con noi.